Le trasformazioni della società, degli scenari dei mercati internazionali e l'avvento del web hanno sovvertito ogni schema. Sempre maggiore interesse e spazio stanno conquistando le cosiddette monete indipendenti, valute non bancarie, forme alternative o nuove di moneta in un'economia globale iperconnessa e basata su dati. Di questo si è parlato in un convegno organizzato a Molfetta, il servizio di Francesco Rossi. Il bitcoin è di fatto una valuta complementare e completamente digitale, il che significa che è una moneta che può essere utilizzata in maniera alternativa rispetto alle valute tradizionali come l'euro o il dollaro, con la particolarità però che dietro il bitcoin non c'è un ente di emissione centrale, non c'è un proprietario, non c'è un signor bitcoin o un'azienda che gestisce la quantità e i metodi di diffusione e di produzione del bitcoin che invece sono stabiliti da un protocollo informatico che è pubblico e come tale è disponibile in rete. Uno dei particolari vantaggi del bitcoin è che come moneta si può trasferire direttamente da utente ad utente, quindi da una parte all'altra del mondo, superando tutte quelle che sono le barriere geografiche e politiche, non necessita di prerequisiti per l'attivazione di un portafoglio bitcoin e soprattutto che le transazioni bitcoin sono essenzialmente gratuite, pensiamo a quanto ci costa un bonifico bancario, un bollettino postale, e che soprattutto hanno un tempo di conferma da parte della rete compreso fra i 10 minuti e i 60 minuti. Come ci si rifornisce di bitcoin? Allora, i bitcoin possono essere prodotti collettivamente in rete attraverso degli strumenti informatici e attraverso una procedura chiamata mining, attività che in realtà richiede una grande dispendio di energie, quindi energetica, quindi in Italia non viene prodotto più il bitcoin, viene prodotto in altre zone del mondo dove c'è un approvigionamento energetico migliore. Per cui la particolarità è che, come per la moneta tradizionale, posso ottenere bitcoin lavorando, quindi facendomi pagare, utilizzando quello strumento, o semplicemente comprandoli da chi già li possieda. Tutto questo si basa però sulla fiducia del consumatore o dell'acquirente o del lavoratore? Sì, certo. Si basa in parte sulla fiducia, però ricordiamoci anche una cosa. Oggi utilizziamo un sistema di scambio tradizionale dove siamo costretti a riporre fiducia in un ente centrale, che è la banca, la banca centrale o i vari istituti di pagamento. Il bitcoin invece sostituisce questa fiducia attraverso una prova matematica e criptografica. Si dice in gergo tecnico che l'ecosistema bitcoin è trustless, cioè senza fiducia. Immaginiamo che è nata come moneta di internet, quindi moneta che gli utenti si scambiano direttamente, senza conoscere fisicamente o neanche i dati anagrafici della controparte. Per cui, come si può essere sicuro di che quella transazione sia valida, ci sono delle precise regole matematiche che sono appunto protette da questo calcolo computazionale che non possono essere sradicate da nessuno. Non esiste un'autorità, neanche uno stato intero, abbastanza potente da poter andare a modificare arbitrariamente quello che è lo storico delle transazioni e quindi attribuire la proprietà di un singolo bitcoin ad un soggetto piuttosto che ad un altro.